Il mio figlio è un'idea di un'idea di una rosa Lei è studente? Io? No, no. Smesso. E di che cosa si occupa? Di niente al momento. Ma che ci facevi a villasciare con quel vecchio? Lo porto a spasso, mi danno 30 euro all'ora. Ma almeno pagherai buffi! La raggi? E come la raggi? Spaci. Ah! Non riesci più a distinguere cosa va bene da cosa va male perché è l'Alzheimer, fa così. Ma che si attacca? Mai sentito. Mai sentito. E poi l'amore è importante. Metto il sacco di brevi, ho scritto il sacco di libri. Ho come un déjà vu. Ma che se sente male? Io? No. Guarda, l'è sempre mancata molto la compagnia maschile. Eccolo. Abbiamo mancato! Tutto a posto? Le sono obbligato. No, no, capito. Grazie. Ah, è com'è. Lei non ha mai scritto poesie? No, io non... Si scriva quando non si sa dove mettere l'amore. Se ti portano al Gabby io te ce lascio. Oh, dai! Peggio di qua un po' esso. Io ci ho pensato. Voglio tornare lassù. Ma lassù dov'è? Ma dobbiamo fare in fretta. non c'è più tempo. Ma non capisco perché non me ne hai parlato. Tutto quello che vuoi, e fu quello il saluto. Tutto quello che voglio, alla fine, l'ho avuto. Giorgio, scusa. È vero che Alessandro ti sta simpatico? Chi è Alessandro? No, ma fai, lo vedi. Riuscirà il nuovo trailer ad entrare in classifica? Al decimo posto, The War, il pianeta delle scimmie. Al nono posto, Thor, Ragnarok. All'ottavo posto, Spider-Man Homecoming. Al settimo posto, Baby Driver. Al sesto posto, Atomica bionda. Al quinto posto, Valeria nella città dei mille pianeti. Al quarto posto, Scappa, Get Out. Al terzo posto, Star Wars, Gli ultimi Jedi. Al secondo posto, Dunkirk. E al primo posto, It. E questa è la classifica aggiornata. Per vedere se la classifica cambierà, non perdetevi i prossimi trailer. E per saperne di più su questo film, visitate il nostro sito, blog.screenweek.it. Ciao!